Sembra tutto scontato questo pomeriggio al Barbera, ma lo sarà davvero di sicuro, queste due squadre hanno due punti di riferimento ben precisi. Buon pomeriggio dallo stadio Renzo Barbera, da dove mi salutano Massimo Tecca e Franco Causio. Tra poco Palermo Livorno, 27esima giornata, l'ottava di ritorno. Gioco di prestigio, poi Pastore al tiro e sarebbe stato un gran gol. Qui Cavani la mette giù, arriva Miccoli, che intervento di Rubinio strepitoso, andava nell'angolino il tiro di Miccoli. Pastore, ancora Miccoli, Bobo, in area c'è già Cavani, sta arrivando Pastore, cross, Cavani, la deviazione di Edinson Cavani a cercare il secondo palo. Ancora Miccoli, c'è Simplizio che aspetta il pallone, insiste Miccoli, sta arrivando Bobo. Hai visto? Lucerino, colpo di tacco, Miccoli, Rubinio, quasi come prima, ma stavolta con palla alla soterra. In calcio d'angolo Rubinio. In area Cavani, Pastore, è salito Goyan, è salito Chiaer. Goyan ha un passo dal gol il romeno. Lucarelli, ancora Lucarelli, sta cercando di liberarsi al limite dell'area Lucarelli, trova Mozart, ancora inserimento, tiro di Mozart, palla che si abbassa all'ultimo, era un po' fuori dai pali Sirigu. Niccoli, inserimento di Pastore, Pastore, Rubinio, il terzo salvataggio, poi Cavani che aggancia, Simplizio che non ci arriva. Esiste Lucarelli, prova a liberarsi, Lucarelli sul fondo, il sinistro di Cristiano Lucarelli. Simplizio, Simplizio, prova ad aprire verso Pastore, eccolo Pastore che mette dentro, Miccoli, Gavani, Rubinio, Rubinio, un miracolo, il quarto della sua partita. Pastore ha battuto subito verso Liverani, Liverani palla corta, Miccoli, fischiato vicinissimo all'incrocio dei pali, il tiro di Fabrizio Miccoli. Palla dentro, Knezzevic, e poi Balzaretti che allontana, una grande palla goal per il Livorno sul colpo di testa di Knezzevic. Ancora Bertolo che prova a mettere dentro per Pastore, Bertolo, Bertolo, Miccoli, 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 vantaggio Palermo. Il trentaseiesimo e sono dieci i gol in campionato di Fabrizio Miccoli. Palermo uno, Livorno zero. E qui il Romario del Salento ti ha inventato l'uno a zero per il Palermo. Hernandez, scadono i tre minuti di recupero, finisce qui il Palermo. Grazie. Grazie. Grazie.